Capri! Ehi! Cineca! Caga! Cosa ha passato? Non possiamo registrare? Vai! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo oggi ritornati su Clash Royale Io sono Next e lui è Slame E oggi vi portiamo un mazzo raga Arrancatissimo Fatto io modestamente Mi ci sono messo in 30 secondi Ragazzi questo è il mazzo di cui vi parlo Guardate che bellissima carta Allora I tank principali di questo mazzo sono Il Pack e Log Rider Poi ovviamente le altre carte le state vedendo Il costo migliore è un po' alto Lo so perchè comunque su web è consigliato Avere 4 sotto il 4 Però se giocato bene questo mazzo comunque legna Ragazzi dentro prima partita del giorno 1545 Va bene Allora Bisogna salire il laser Comunque la strategia Comunque metti subito il Pekka A destra Nooo No 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 Lasciale la Metti i barbari davanti I barbari davanti Subito Però aspetta Aspetta che arrivi a metà Ecco Qua è l'unica carta che deve rompere il cazzo Siamo il mago di ghiaccio Che fa? Lancia i sgherri I sgherri No che sgherri Goblin E il drago dietro Che culo Fireball sui cosi Si prende tutto Ma potrebbe andare Ok Il Pekka si prende le botte E tu gli hai buttato giù quella Rompicazzo Domatore Vai 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 subito Spamma spamma Prima fa è meglio è Sgherri Ovviamente qui doveva rompere il cazzo Per forza Lancia le frecce No no c'ha un po' Eh? Quali fanno un botte di danno eh? Scialla Ok allora Scialla un Un par di palle Trasile me lo tengo Il Pekka però se lui ha quella carta lì Il Pekka mi sa che me lo rende inutile Quindi facciamo così Buttiamo i barbari di qua Lui ogni tanto non dà un fastidio Buttiamo i lanceri Ci diamo le frecce Porca troia lo sapevo Vabbè poco male poco male Il Cusciolo di Drago dietro Se noi ci teniamo Queste carte qua appunto Tipo frecce Inutile Inutile Sputtalati in una maniera assurda Ovviamente devono tirare le carte quando meno serve Ragio domatore a sinistra Il cazzo di sfiga però raga madonna Spamma la pure me la tira giù mi sa No No Sono un'altra mezza 600 di vita Ok Devi stare attenta a quei goblin del cazzo perché te la buttano giù Vai lanciare le sgherie a destra In maniera che ti fermi i goblin Ok Ho gradito e dobbiamo pensare dove? A sinistra a sinistra Sinistra Si Teniti le frecce No Usa la Fireball Quella del mago Appunto Contro mago non Fireball Vai 11 di vita Non ci credo Ci sono le frecce Ci sono le frecce No non usarla adesso Se lo usavi dopo era meglio Eh Non mi mandato niente di vita la tua No in senso se lo mandavi dopo non ti spuntava il coso come il cazzo si chiama il Pierullino del re Si servirebbero proprio le frecce in questo momento Si servirebbero proprio le frecce in questo momento Si servirebbero una freccia a seconda La freccia Non voglio farmi fare danno raga scudate Lo so che la Fireball è usata un po' così però Frecce buttate Ah beh dai però Ah si dai dai Non ce la menti Allora c'è una bella cosa Lancia Barbarie No O'Grider Barbarie qua a difendere raga Questo è un po' tirata come situazione O'Grider tirare quella che ha rotto il cazzo Ok Sgherri subito Quindi intanto tira la mazzata perfetto La mazzata deve sempre tirare Sgherri subito Sgherri subito Sgherri subito Lasciamo passare Drago qua Guarda le dirà Frecce Frecce no Lasciamo passare Ti vado quanto le dirà Ok Così intanto lì Può picchiarmi quanto gli pare Guarda Frecce non si sembra che mi butta qualcosa Perchè di qualcosa me lo butto Ecco Dai Prova la cosa più inutile l'ha vincitato Ah no Quattrocento di vita dai Ok 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 Arranca in modo mostruoso Spamma Spamma truppe Devi trovare l'Orgerider Devi trovare l'Orgerider In questo caso Eh niente Fini è un pareggio Tutto è proprio nel momento meno adatto Cazzo Trecento Posso farci Posso farci con la bomba No Due Non fa duecenti di vita Sì ma non fa duecenti di danno Ragà abbiamo troppa sfiga Abbiamo troppa sfiga Ragà bo boccato Madre Ragazzi siamo dentro la seconda partita Sempre le valosette Allora prima c'è Allora io ve lo dico Questo deck qua Si sale molto piano Infatti farete molti pareggi Cioè le perderete anche a volte proprio Le perete un po' da infami Però Si a volte ti usano quei deck Porco Due Lancia il domatore a sinistra Subito Si Spamma sul biome del caglio Allora aspetta aspetta adesso Cazzo No Chi ti spuna quattro scheletrini Viene quelli vieni Forno a tiramazzato Cazzo Forno a tiramazzato No allora Io eh Ho imitato il nostro porco preferito Allora Bene lì facciamo andare Sgherri orda? No no Gli sperimenti lì sì Andrei di pecca che poi ci sono i lancieri In basso sinistro state vedendo anche voi Allora Picchia duro Picchia duro Bene Chi si vincerebbe Strano eh strano che vince il mio Tanto non fa un cazzo Ecco Ok allora Lancia la fireball sul coso Muschiettiere Si Ma è meglio per la torre Ma è un maldiatissimo di vita Infatti una scuola di vita Almeno adesso lo pido Va bene va bene Vai Te li stecca Te li stecca lancia le frecce La stecca comunque Prima intanto a me la ritira l'ammazzata Prima cosa Ecco non ci arriva la torre raga Però intanto il mago è fuori dai coglioni Il mago è quella struttura Lui usa un'altra tecnica Cioè lui va a picchiare molto col pecca E io il pecca lo uso solo per difesa Cioè ha tanta vita e fa tanto danno Se mi lancia lo gigante mi metto il pecca davanti Uno lo rallenta Perché rimanono Proprio di pecca davanti Facciamo una cosa Facciamo una cosa qua Cosa facciamo Lancia allora i barbari contro il la cosa Attaccati Qua ti metterà il mago Ok Eventualmente butta il pecca E il domatore a sinistra No il domatore a sinistra Scuro? Vai Vai Non ho nord di sgherri E tanto c'erci 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 Andiamo attacchiamo Mamma mia Tu la tombstone del cazzo Non c'eri dietro Devo toglierli dal cazzo Ok vai Questo è il mazzo per pareggione Io direi pecca quasi Pecca di qua Sinistra Si Vai Barbari No Aspetta aspetta Ti metto No aspetta aspetta Gli butterei anche il drago Vai il drago perché ti copre dall'alto Sì giocare raga Raga ha smesso di giocare Mi sono andato giù raga Ha smesso di giocare Strano Troppo Andiamo per le tre stelle scusa Andiamo per le tre raga Buo raga strano Andiamo per le tre Abbiamo fatto tre stelle raga Due pecca in campo raga Si facciamo tre Facciamo tre raga Eh beh il pecca fa 5 centi da una cosa La seconda partita finisce così Prima pattata Seconda vittoria Vinta meritatamente Ma si dai comunque se andranno giocando bene Dentro raga Terza partita Uh 1741 trofei E' l'altra cosa schista tosto Adesso faremo tipo pareggio vittoria sconfitta Eh l'ha fatto tutto Allora Allora metti barbari Barbari qua Troppo indietro li avrei messi davanti Meno che salgano una cosa Ecco Oh Mi hai letto nel pensiero Dico dai non tirerà mai la fireball Cazzo Lancia il domatore a sinistro Lancia il domatore a sinistro Ok Teniti pronte le frecce Ci metterà tre ore da arrivare le frecce Merda Vabbè il che rinservirebbe lanciare i lanciari qua Vabbè Insomma sciallo un cazzo però Dai un po' di danno io fa Eh Info di merda Fultana figlio Io la odio l'agello quando la usano in difesa Mamma mia se la odio Mi fa venire a certe volte uno schizzo Mettato scende ora Forti l'agello Dai Fanno tre di danno in più Ok Allora Lancia pecca destra Pecca destra subito Aspetta Aspetta No 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 lasciamo passare Lasciamo passare Lasciamo passare Sono stato fatto un po' da No no Si ma tanto c'è anche l'altro Ecco qui Il domatore sempre a sinistro Io di picchiare a sinistra Eh ma mi aspetta a sinistra E non ti buttare a sinistra Dovete a destra Dovete a destra Vabbè Drago Eh Drago e poi domatore Appena c'è il domatore Eh che figlio di farlo Eh che figlio di farlo Eh che figlio di farlo Ma che cazzo stai dicendo Me la tengo Me la tengo Questo butto io L'ho delle sgalle adesso Ok Te la sto finutile 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 Le bando giù raga Le bando giù raga Le bando giù Mamma mia che gufo di merda Matteo Madonna che gufo di merda Mamma mia Mamma mia Tira la mazzata Oh Un'altra Oh Un'altra Oh Minchia Tenilo per le palle La tengo per le palle qui Lancia Lancia Allora lancia la fireball contro la torre Lo mandi La fireball lo tira giù la torre? No non la tira giù Non fa 200 di vita Ecco detto Ti ho convinto Tu ti ho convinto Quanto cazzo fa di danno la fireball? 200 di danno per la fireball Ma non è vero non l'ha mai fatto E se lo fa Non mi devo tira giù la torre Suo stronzo Tu idrati di infesa Metti pecca Appena ci vai metti pecca Davanti la torre Si? Non vogliamo dare la seconda? No no fregatene Vabbè Teniti le frecce in caso Ho capito andiamo a destra La prossima fireball me la tiro Se ci deve arrivare la prossima fireball Deve spammare truppe Ha appena speso 6 di enixir Lancia le frecce Perchè la lancia della 8 7 6 Ce la fa col danno del barillo Ce la fa Bastardo Non ci credo raga Due secondi Vabbè vabbè dai raga Non ancora finito Non ancora finito Non ancora finito dai Non ancora finito Perchè stai andando su di un l'altro? Tazzo pecca Non vuoi dissi ma che cazzo è già in scherzo Stantano Via C'è una canata bene Dai sali Hai mai tirano un botto di vita al pecca No è neanche più di tanto C'è una metà vita Barbarin Barbarin No è barbari Barbarin adesso Fatto bene a tirare la cosa Adesso questo Adesso questo Adesso questo Adesso questo La pecca non ci arriva la torre Ma no Ma è nella vita proprio Faccio la cosa che non doveva tirare Ograde Ficchia Va bene lo stesso Meglio così No ma finisce un pareggio anche questa raga Raga l'ha guffata La guffata Eh Le frecce sulla torre Le frecce sulla torre Ma finisce infatti Forse l'avrei vinta raga Forse l'avrei vinta Piano piano Si è Fatta però questa Forse l'avrei vinta raga Forse l'avrei vinta Per ogni tanto secondo me Comunque se è più carino da vedere sto mazzo Comunque scrivete me nei commenti Perché è un po' più combattuta la partita Diciamo Lo spawn deck rimane monotono Cioè vinci o perdi E' difficile che pareggi Mentre ragazzi io sono Next Lo è Slime Spero che vi sia piaciuto Noi ci vediamo in un prossimo giorno In un prossimo video Qua da GMG Next Assemble tutto Bella raga Bella raga